Il trasferimento della sede di Confindustria a Pescara denunciato per primo dall'ex sindaco del capoluogo Massimo Cialenti ha provocato reazioni a catena. Una modifica dello statuto che andrà in approvazione il prossimo merdi sposta di fatto la sede dall'Aquila a Pescara. La levata di Scudi a questo punto c'è stata anche da parte di Ance Confindustria, l'Aquila, che non ci sta e parla di un documento irricevibile. Sostanzialmente si vanno a colpire sempre di più le re interne, va bene la regionalizzazione dell'associazione, ma ora Confindustria L'Aquila chiama in campo il nazionale per sedere allo stesso tavolo e ragionare. Nessuno presta questa attenzione con l'Aquila che sta subendo a livello anche politico completamente. Perché mi preoccupa? Perché si risvegliano questi disequilibri che vedono una difficoltà estrema delle aree interne e soprattutto in una città come l'Aquila, che sta vivendo una fase non facile a livello demografico e così via. Mi indigna perché è ipotiniana, perché ormai in Abruzzo passa il discorso di chi è più forte, chi è più numeroso, che ha più peso politico. E questa cosa non è possibile, porterà a gravi disequilibri, soprattutto alla luce di una scelta che è stata fatta da Marsiglio, unico presidente del Meridione in Italia, di centrodestra, che appoggia l'autonomia differenziata. Se dovesse, disgraziamente, passare l'autonomia differenziata, il destino dell'Abruzzo, e soprattutto dell'Abruzzo interno, sarà di estrema, di estrema difficoltà.